E anche qui nel caso di Paolo è assolutamente come dire ridicolo presentarlo. Io vorrei solo ricordare l'ultimo titolo, letture, che è in qualche modo una sorta di un ultimo titolo della sua bibliografia che mi sembra un ottimo prologo per quello di cui lui parlerà oggi. Paolo lo sappiamo, uno dei più straordinari interpreti di poesia contemporanea e di narratologia. Il tema che gli ha scelto mi pare particolarmente anche questo intrigante, che cosa significa ascoltare un testo narrativo con un rigoroso punto di domanda. A lui appunto cedo la parola, grazie. Grazie, grazie per la lusinghiera presentazione. Adesso devo caricare la slide. Sono io, Gianni, che ha condiviso prima il cerchio tipologico distanze, perché mi sembrava giusto farlo. Come vedete ho messo Napoli fra parentesi quadre, perché io mi sento a Napoli in questo momento, ma a Napoli non siamo, doveva tutto svolgersi lì, ma insomma le cose sono andate diversamente e possiamo essere molto contenti comunque della situazione in cui ci troviamo e anche delle parole molto belle che abbiamo sentito. E naturalmente su quello che ha detto Gianni io adesso avrò da dire qualcosa. Ecco, sto già sbagliando a far funzionare le slide. Ah sì, ecco qua, perfetto. Riprenderò alcune cose dette da Gianni naturalmente e le condivido in modo totale. Allora io toccherò, parlando di ascolto, tre punti, tre livelli del discorso. Toccherò tre livelli del discorso intorno all'ascolto narrativo. Parlo solo di ascolto narrativo. In questi anni sto cercando di occuparvi un po' di questo problema strano dell'ascolto. Cosa vuol dire ascoltare in letteratura e come dire specificamente quando è letteratura scritta, scritturale, qui è venuta la parolaccia che forse qualcuno troverà un po' troppo osè, ma insomma la letteratura stampata, letteratura non orale, diciamo così. Ecco, mi sto chiedendo in narrativa specificamente che cosa vuol dire ascoltare. Adesso io vi mostro i tre livelli del mio ragionamento, così abbiamo una sintesi dei tre punti del mio discorso. Dicevo, io in realtà me ne occupo anche dal punto di vista della poesia e forse anche da un punto di vista teorico più generale. Mi sto perdendo in questa ricerca con grande mio piacere, ma c'è di buono che adesso mi limito, oggi mi limito a ragionare intorno alle questioni narratologiche. Allora ci sono tre livelli, li ho studiati i primi due, li ho studiati veramente, il terzo che vedete ho messo fra parentesi quadre, ahimè no, è un assaggio degli ultimissimi mesi oserei dire e poi cercherò di essere più chiaro. Beh intanto allora l'ascolto mi ha colpito come esigenza in qualche modo di tipo narratologico nel momento in cui io ho verificato, ho cercato di verificare a partire dai promessi sposi l'intacco, cioè la modificazione di un dispositivo che ritengo fondamentale quello della scena intesa in senso genetiano e con sbilanciamento del racconto, diciamo così, nella direzione del sommario focalizzato. Adesso ovviamente è troppo sintetico, cercherò di chiarire successivamente, ma riprendo i tre punti. Il più complicato in realtà è il secondo, anche se ho cominciato a occuparmene ormai sei, sette anni fa, quello che io chiamo il fenomeno hearing, che deriva da idee di Anne Banfield nel suo famosissimo libro e ho cercato di vedere come questo frame, chiamiamolo così, questo modo di rappresentare l'ascolto si sia manifestato in particolare in Verga e De Roberto, di recente ho anche cercato di lavorare sui divicere, qui ho scritto in quanto condivisione di un contenuto diegetico da parte di una comunità e sua trasmissione all'autore, cioè idealmente come frutto dell'ascolto di un discorso condiviso da parte dell'autore di un'opera narrativa, tipicamente Verga e poi De Roberto. Anche qui chiaramente tutto piuttosto scuro detto in questi termini, ma lo riprendiamo dopo. E poi il narrated monologue, fondamentalmente discorso in diretto libero soprattutto di pensieri, addirittura come possibile ascolto interiore, cioè il discorso in diretto libero di pensieri, la rappresentazione del pensiero come ascolto di una voce interna. Brusio murmure udito da un soggetto però del tipo narrativizzato di cui parla chiaramente Benfield, quindi non un io ma un self, ma anche qui dovrò cercare di chiarire i concetti andando avanti. Allora, l'intacco del dispositivo scenico. La mia idea di fondo è questa, cioè che quando Genet, ovviamente non solo lui, ci spiega che cos'è una scena, la famosa scena genetiana, in realtà ci spinga, e qui dal punto di vista storico sono assolutamente dalla parte di Gianni, ci spinga a entrare in una sorta di dispositivo percettivo, dispositivo cognitivo caratteristico del romanzo ottocentesco. E' come se il lettore, forse anche proprio reale, oltre che implicito, del romanzo ottocentesco, leggesse, fosse tenuto a leggere i dialoghi, le cosiddette scene, mettendosi in una posizione che è quella dello spettatore a teatro, di chi assiste a una rappresentazione teatrale. Quindi, udiamo nelle scene, quando leggiamo una scena, udiamo quello che immaginiamo, odano, sentano anche i personaggi. Udiamo ciò che è on stage, ciò che è on the air, vabbè on the air è chiaramente una definizione un po' eccessiva. E fra l'altro assumiamo, come dire, una posizione che secondo me si spiega meglio in termini stanzeliani, cioè come una posizione priva di prospettiva. Non c'è una prospettivizzazione di ciò a cui assistiamo e che udiamo. Quindi sono parole udite come se fossero dentro uno spazio teatrale. In uno spazio teatrale non c'è, non ha vigore una vera prospettiva. Il teatro non è prospettivizzato. Ecco, questo mi sembra interessante perché intanto, come dire, non è genetiana come osservazione. Non è una focalizzazione zero, si potrebbe definire una sorta di non focalizzazione. E lì stanza secondo me è più preciso rispetto al genet quando oppone prospettiva e non prospettiva, interno ed esterno. I regimi di focalizzazione di genet non aiutano tanto in questo caso. Ecco, io ho provato a lavorare sui promessi sposi, e qui mi vergogno, ci sono tantissimi manzonisti che mi ascoltano, spero che non si arrabbino troppo. E ho visto che secondo me questo dispositivo, come dire, teatralizzante, si viene intaccato in due modi. Quando si vuole rappresentare una vocalità collettiva, e tutti sappiamo che quando il tumulto del pane, Renzo Milano, il suono di Milano è un ronzio. La parola ronzio ricorre spessissimo nei promessi sposi, quando insomma le voci si sovrappongono e assumono la fisionomia del ronzio. E secondo me in quei casi si definisce una particolare, chiamiamola, focalizzazione interna. E poi secondo elemento, secondo intacco della scena, avviene quando sono in gioco voci, voci altrui, in qualche caso anche suoni, poi bisognerebbe vedere nel dettaglio, che offrisce, una voce che offrisce o arricchisce l'anima. Allora, l'esempio secondo me di collettività, qui siamo abbastanza ad inizio, il capitolo quarto dei promessi sposi, ovviamente non mi metterò a leggere, vedete, sono battute frenetiche da parte di coloro che hanno assistito all'omicidio compiuto da Lodovico. e il narratore commenta, dice, queste parole che più di tutte si facevano sentire nel frastuono confuso di quella folla, esprimevano il voto comune e col consiglio venne anche l'aiuto. Cioè c'è una situazione in cui inevitabilmente bisogna filtrare, bisogna focalizzare, non tutte le parole si sentono, non tutte possono essere organizzate, c'è appunto un brusio, un ronzio complessivamente e quindi diciamo quel regime teatrale, come dire, anche ordinato e molto razionale, equilibrato, come diciamo solitamente realistico, viene un po' rimesso in discussione. Seconda situazione, questa forse un pochino più complessa, richiederebbe un commento, io ho messo in corsivo, non penso che si debbano assolutamente definire come indiretti liberi, relativi alle parole di Lucia e di Gertrude, quando Lucia viene ingannata da Gertrude e viene convinta a uscire dal convento. Qui non c'è un discorso diretto, non c'è un discorso teatralizzato in senso tradizionale, ma ci sono le reazioni interiori, potremmo dire, da un lato di Lucia e dall'altro lato di Gertrude. Lucia ode la parola falsa di Gertrude e Gertrude a sua volta ode, sente le reazioni anche, come dire, frenetiche, infelici, spaventate, chiamatele come volete voi, di Lucia. E' in gioco una questione morale e in gioco una menzogna e quindi quel tipo di dispositivo teatrale viene messo in crisi. Ed è inutile che ricordi che c'è anche il versante positivo quanto le parole di Lucia udite dall'innominato agiscono su di lui, ma ovviamente non abbiamo il tempo di prendere in considerazione questo aspetto. Allora, il famoso frame, no, famoso perché io sono, come dire, coniatore sulla scia di Anne Banfield, di questo presunto frame hearing, che è una questione abbastanza complicata. Allora, spero di riuscire a renderlo un pochino più chiaro a quell'esempio che fa la stessa, che propone la stessa Anne Banfield, ma insomma Anne Banfield teorizza a un certo punto del suo meraviglioso libro, Un Speakable Sentences, teorizza la possibilità che il dialogo io-tu, quindi una comunicazione diretta naturale, possa essere mediata da un ascolto interno, o meglio più esattamente da una percezione interna. Quindi si può, come dire, fare una sorta di dialogo in terza persona, ci può essere una sorta di postura dialogica spostata alla terza persona, come, appunto, dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista, come se qualcuno stesse ascoltando. Allora, il discorso che fa Banfield, dal punto di vista poi anche storico della genesi delle sue idee, è interessante perché Banfield parte da osservazioni di Bolochinov, che sappiamo tutti essere poi Bakhtine, Michael Bakhtine, Il Marsismo e Filosofia del Linguaggio, dove appunto si parla di ascolto, di ascolto narrativo, ma Bolochinov si rifaceva, quindi siamo nel 29, si rifaceva a un libro di Etienne Lorch, che appunto, ecco, se volete ve lo posso anche fare, non so se riuscite a vederlo, comunque di Erleb Terede, uno studio dove, tra l'altro, Erleb Terede, discorso rivissuto e messo tra virgolette, perché Lorch aveva detto, attenzione, che il discorso indiretto, libero, è una sorta di reminiscenza interiore, quindi di ascolto interiore, di parole precedentemente udite, quindi io rivivo Erleb, rivivo dentro di me, delle parole che ho precedentemente ascoltato. Allora, questo è, secondo me, un ragionamento che poi appunto, piuttosto interessante perché produce questa ricaduta su Voloshinov, che riprende Lorch e Benfield che riprende Voloshinov, per appunto teorizzare questa possibilità. Io vi propongo, ovviamente non fatemi leggere l'inglese, ma comunque un esempio chiarissimo, secondo me, di quello che intende Benfield, riprendendo un passo, attenzione, 1815, lo storicismo mi è caro, di Emma, di Jane Austen. Allora, cosa succede? C'è questo signor Mr. Elton che si dichiara a Emma. Quindi, diciamo, dal due punti in poi, noi leggiamo le parole di questo Elton, Mr. Elton, come lei le ha udite. Perché cosa succede? Allora, semplifichiamo al massimo. È tutto un indiretto libero nella prospettiva di Emma, ma dentro questo indiretto libero c'è la percezione da parte di Emma di quello che ha udito, quindi delle parole del signor Elton. Quindi è un discorso incassato. Lei percepisce, vive come self la realtà, secondo le tecniche, diciamo, secondo le procedure dell'indiretto libro, ma dentro questo c'è la, come dire, sua esperienza delle parole pronunciate dal signor Elton. Questo making violent love to her, lo dice Benfield, è il segnale che siamo nell'ambito percettivo di Emma, perché vuol dire fare una corte spietata e quindi fa parte del linguaggio del personaggio. Quindi lei ascolta da availing himself in poi, noi abbiamo ciò che lei ha udito, cioè le parole del signor Elton, quindi le sue parole d'amore, la sua offerta, eccetera, eccetera. Ecco, allora, questo secondo me è un modello che può funzionare bene e può essere generalizzato. Qui faccio una serie di veloci osservazioni, appunto, perché penso che si possa usare, si possa usare questo modello per leggere nel modo giusto alcuni sommari vergiani e lo stesso, in realtà vale per molti autori cosiddetti veristi. Ho fatto l'esperimento di recente su De Roberto e mi ritrovo, chiaramente, posso essere, come dire, contestato veramente. Comunque, in tutti questi casi, e come anche qui mi riferisco a cose che ha detto Gianni, atteniamoci sempre al meraviglioso Proteus Principle, cioè ha l'idea che su un testo narrativo si possano applicare diversi frame, direi proprio cognitivi. Io posso attivare, appunto, il frame della situazione narrativa autoriale piuttosto che il frame della situazione narrativa figurale e c'è anche un conflitto fra le possibilità. Vedete? Frame narrativi, X1 e X2 sono testi narrativi e a questi testi si possono tranquillamente applicare due frame diversi. Tutte cose che conosciamo benissimo, si può guardare la stessa cosa da diversi punti di vista, si possono cogliere caratteristiche diverse a seconda del punto di vista, ma in questo caso è proprio qualcosa di cognitivo, cioè dobbiamo, possiamo conoscere utilizzando frame diversi lo stesso testo letterario. Ed eccolo qua, eccolo qua, io e Gianni andiamo sempre d'accordo e quindi lui ha detto Emic o etic l'incipit dei malavoglia. Allora io propongo, ho proposto, il fatto che si possa leggere, e questo è il famoso attacco dei malavoglia, come un attacco assolutamente figurale secondo il frame hearing che ho teorizzato. E l'idea di fondo è questa. Io penso che Verga pensasse così, cioè l'autore si è sentito raccontare che un tempo in malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia, eccetera, eccetera. Ovviamente tutti ad acitrezza si raccontavano che sapevano che un tempo in malavoglia, eccetera, eccetera. Allora questa è l'idea di un ascolto, di un hearing utilizzato per, come dire, dare forma, dare sostanza, dare spessore narrativo a questo incipit, che ovviamente, come ha detto Gianni, si presenta come illusoriamente tradizionalistico, però se ci fosse davvero un narratore, costui non direbbe adesso attrezza non rimanevano che i malavoglia, ma direbbe adesso attrezza non rimangono che i malavoglia. Più volte è stato notato, l'ho sottolineato, questo piccolo dettaglio, che però ci aiuta a capire la logica. Allora qui faccio un po' lo storico letterario e rilevo uno che opere piuttosto importanti del verga pre-naturalista, pre-verista, come Tigreale e Eva, una peccatrice, contengono racconti intradiegetici in cui c'è un personaggio che racconta e ce n'è un altro che ascolta il suo racconto. Nedda, ma soprattutto fantasticheria, ho scusato, ho saltato, eccolo qua, Nedda e fantasticheria sono novelle al limite della metalessi, questa cosa ci interessa relativamente poco, cioè fantasticheria, verga è il, come dire, è lo scrittore che si muove in un paese in cui si trovano i personaggi del suo futuro romanzo, quindi è una specie di metalessi, però l'idea anche in Nedda, famoso inizio di Nedda, dove in questo discorso davanti al camminetto, lui in un certo punto è il narratore, anzi l'autore, l'autore si presenta come omodiegetico rispetto alle storie che racconta, come se lui si fosse fatto raccontare la storia di Nedda, mettiamola così, no, con un riferimento fra l'altro geografico molto preciso, io sono stato lì e ho preso parte della storia, e poi la famosa lettera Cameroni del 27 febbraio 1881, in cui Verka dice io ho vissuto insieme ai miei personaggi, anche il lettore dovrà fare tutto questo, quindi questa idea dell'ascolto delle voci alture è in qualche modo legittimata, chiamiamola così dall'intenzio autoris, ovviamente su questo si può aprire un dibattito di anni. Il terzo punto lo metto fra parentesi quadre, cercherò di essere molto molto veloce, in realtà non ho svolto una vera ricerca, mi è capitato di prendere in considerazione questo libro, non so quanto conosciuto, di un signore di nome, Dittore Eger, che pubblica nel 1881, filosofo, psicologo, insomma, ottocentesco, ci sarebbe da dire tantissimo, pubblica questo, La parole interiore, il discorso che io credo parola che sia meglio tradurre come discorso interiore, e dice che i nostri pensieri, secondo Eger, sono un discorso, sono delle parole che noi udiamo dentro di noi, un brusio, un murmure, francese murmure, vabbè, mi piace un murmure perché è molto pascoliano, e quindi insomma, anche perché, vabbè, adesso mi vengono tutti gli agganci, siamo nel 1881, pensate che hanno straordinario dal punto di vista storico, gli studiosi di filosofia ci dicono che Bersona ha un po' scopiazzato Eger, che lui detestava profondamente perché l'aveva fregato a un concorso, erano due professori diversitari, però Bersona ha dimostrato che utilizza, scusate, ho fatto un errore, utilizza molto Eger. Allora, c'è un ascolto interiore, i pensieri sono una voce che noi udiamo dentro di noi, è una voce bassissima, è un brusio, è un murmure e questo murmure sono i nostri pensieri, quindi il pensare come ascolto interiore. Qui mi sono chiesto bene che cosa mi dice Eger, e qui la butto proprio, anzi, la butto e mi butto, nel senso che vado un po' così, non dico provocatoriamente, ma sono cose che si devono assolutamente raffinare, però mi sembra che quando noi parliamo, cioè, cominciamo a pensare nei termini di Eger, potremmo rivedere l'idea del, diciamo, discorso in diretto libero di pensieri, narrated monologue, come un'attività in senso stretto monologica, perché tutto viene ricondotto a una vita interiore, lo stesso Eger insiste sull'idea che questi pensieri riassorbono percezioni esteriori e le ritraducono in un linguaggio interiore, quindi una sorta di monologizzazione del mondo, della realtà attraverso il filtro interiore, ma curiosamente potrebbe valere anche l'ipotesi opposta, cioè l'ipotesi dialogica, il pensiero come una sorta di dialogo interno al soggetto. Io ascolto i miei pensieri e in qualche modo dialogo con questa voce interiore. Facendo un omaggio l'ennesimo a Gianni, portato una citazione dai Vicerè, dove è chiaro che si può vedere allora intanto l'input esterno, la percezione esterna Consalvo sta morendo il padre, siamo nella terza parte dei Vicerè, Consalvo vede quanto percepisce quando quanto soffre il padre, qualcuno dice meglio che finisca, dicevano nella sala gialla, soffre troppo, Consalvo non dice nulla e qui comincia lo scavo interiore, vabbè, psiconarrazione, discorso in diretto libero, ma vedete sottolineato era il sangue impoverito eccetera eccetera della vecchia razza e sappiamo tutti che alla fine dei Vicerè pronuncerà lui parole simili, quindi siamo proprio entrati nel linguaggio di Consalvo e guardate alla fine Consalvo sta dialogando, sta pensando ma dialoga con se stesso e si risponde, c'è quel niente che è una risposta ai suoi pensieri e qui davvero assolutamente mi vergogno anche qui Joyce Portrait of the Artists as a Young Man vediamo sempre come in questo caso siamo molto all'inizio come il discorso interiore parta da una sollecitazione esteriore, in questo caso si ha l'impressione che l'elemento esteriore si interiorizzi e entri a far parte di un monologo. Ecco, ovviamente su questo si tratterebbe di discutere a lungo, è una proposta che io faccio, cioè provare attraverso questa teoria che è poco nota di Heger vedere se si può ragionare intorno allo statuto della rappresentazione dei pensieri che paradossalmente apre due strade diverse. Ovviamente la strada dialogica risente di Bakhtin ma anche di tanti ragionamenti che sono stati fatti sulla rappresentazione del pensiero e spesso anche Jacobson per esempio si ritrova l'indicazione ma in fondo la rappresentazione del pensiero è la rappresentazione di qualcosa di intrinsecamente dialogico e Heger ci porta a ragionare in maniera leggermente diversa. Bene, io ho finito. Grazie. Grazie.